Facciamo a chi è più trasgressivo? No, ma voglio dire, poi la trasgressione non è sicuramente il nostro... Non è il nostro obiettivo. Non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è il silenzio. No, l'obiettivo non è la trasgressione. Comunque la trasgressione non è lo strumento che noi usiamo, è uno strumento che viene usato. Poi le nostre immagini ormai sono trasgressive. Ma quello che succede con la fotografia è che più ti metti in gioco e più metti in gioco parti di te e più in qualche modo, questo non solo con la fotografia, secondo me, con la fotografia, il cinema, l'arte in generale, ma la comunicazione. Alla fine devi metterti in gioco, devi un po' sputtanarti. Questo in alcuni casi diventa provocatorio e allora abbiamo case di personaggi che sono volutamente provocatori all'ennesima potenza. Che gratuitamente? Ma, volutamente, perché è il loro modo di essere, quindi poi è il loro modo di esprimersi. E poi alla fine però trovi uno per tutti, Maplethorpe è un fotografo. Beh, però è così, insomma, no? Cioè lui poi aveva questo lato dove fotografare questi fiori e le foto di questi fiori sono di una bellezza e di un'eleganza sconfinata. La sensazione che ho avuto quando ho guardato la sua mostra è che lui alla fine avesse bisogno di fotografare le immagini provocatorie, perché le sue erano veramente provocatorie e lui veramente si è messo in gioco nel suo essere fotografo, per poter arrivare a quella pulizia, per poter fotografare un fiore sentendosi quasi libero, no? Di tutti quelli... Un fiore con un pene, un pene con un fiore. No, secondo me il processo era un po' diverso, no? Secondo me lui non fotografava il pene con un fiore, il fiore con un pene. Erano proprio due lati del suo essere. L'uomo ha bisogno, anche in qualche modo, di raccontare le troppe trasgressioni, perché le trasgressioni sono qualcosa di intimo, fanno parte dell'ombra. Credo che comunque tutto può esistere solo se si è totale e quindi la totalità in qualche modo a volte ti porta a far uscire delle parti trasgressive, un po' perché funziona. Per potersi poi concedere liberamente invece la parte più amorevole, sentimentale, elegante e raffinata. A volte queste cose si fondono in un'unica immagine e a volte queste cose invece hanno bisogno di essere vissute separatamente. ci sono grandi artisti che riescono ad andare così in profondità nel loro lato ombra da farla diventare icona. L'ultima fase di La Chapelle è una fase assolutamente di grandissima eleganza e però, voglio dire, tutto sul racconto iconografico invece è kitsch americano e totalmente materiale e pornografico anche quando si vedono le tette. è come se a un certo punto è una catarsi. La trasgressione nell'immagine è una forma di catarsi che permette poi di andare oltre e quindi a volte quando vengono queste intuizioni c'è come un bisogno impellente di doverla di farla quell'immagine cioè c'è bisogno di dire ok, questa cosa io la vedo e la voglio fare perché è un modo per andare oltre e sicuramente queste due cose unite il fatto che comunque la trasgressione in qualche modo è un codice che funziona e che vende anche perché questa è la realtà. Insomma, sì, dipende perché poi tante volte ci sono delle situazioni dove ci guardiamo e ci diciamo non lo accetteranno mai queste ce le censurano. A volte ci autocensuriamo prima che ci censurino gli altri o semplicemente invece non riusciamo a portare fino in fondo un discorso perché ci sembra troppo anche per noi, insomma. Noi amiamo molto guardare quello che fanno i fotografi ma non per copiare, imitare ma per sentirci meno soli in questi spazi interiori che si attraversano quando si crea un'immagine.